Eccoci amici, bentrovati, l'appuntamento con l'informazione di Tele Iblea sul canale 178, vi ricordo che il nostro segnale si vede in quasi tutta la Sicilia e abbiamo ancora qualche difficoltà sul Ragusa, ma stiamo viaggiando abbastanza bene, si spera nei prossimi giorni di avere il progetto approvato e poter mettere un ripetitore sul Ragusa in modo che si superi il problema. Anche il numero, il canale 178 è in fase di discussione, è una lunga battaglia, speriamo di vincere anche questa e di avere un numero ben diverso che sarebbe quello che ci tocca addirittura non solo a due cifre, ma molto basso. Detto questo andiamo a parlare di un problema che è molto importante, molto sentito e che purtroppo se ne parla poco nonostante siamo in campagna elettorale. Allora certo in campagna elettorale ci preoccupa il gas, ci preoccupa la guerra, ci preoccupa Putin, ci preoccupano tutte queste cose che sono gravissime e che secondo me avremo enormi difficoltà, perché quando ci dicono entro il 2024 saremo autosufficienti, va bene e tutto il 2022, tutto il 2023 e tutto il 2024 come cazzo non la facciamo. Siamo costretti a pagare quelle bollette, mi arrivano notizie da Pozzallo, ricordate quell'imprenditore pozzallese che continuano ad arrivare di bollette così alte e lui chiuderà e come diceva Salvini, ma qui non voglio fare politica, Salvini dirà che perderemo un milione di posti di lavoro, allora sì, va bene, dobbiamo essere solidali con l'Ucraina, poi tutta questa amicizia con l'Ucraina, non so da dove ci spuntava, dobbiamo essere solidali ma noi moriremo di fame e quindi mentre cerchiamo di affamare Putin, Putin affama noi. Ma questo è un problema di economia, ne parleremo dopo, invece vi volevo fare cenno ad una questione molto delicata, come vi dicevo, che è la questione della sanità. In questi giorni si stanno facendo i test per essere ammessi alle università in medicina. Da tempo diciamo che ci mancano i medici, diciamo che abbiamo questo enorme problema di medici, soprattutto in alcuni settori particolarmente delicati e chiedevamo che si potesse togliere questo fatto dei test e permettere invece a tutti di poter essere iscritti in medicina e poi magari fare il primo anno come blocco, se non superi il primo anno te ne vai a casa. Invece si continuano a fare questi test e si calcola che abbiamo qualche migliaia di richieste insoddisfatti, ci avremo migliaia di medici che non ci sono e sui test i numeri saranno molto bassi, passano praticamente uno, due su quattro, cioè 25 il 50%, gli altri non passano ma i test sono essenziali perché noi non sono essenziali, sono essenziali gli studi. Quanti ragazzi magari il test non lo passano ma se gli facciamo fare la medicina lo facciamo studiare, è capace che gli piace, vanno avanti e via via che subono il primo anno e il secondo anno a quel punto saranno dei medici sicuramente buoni. Quindi questo fatto di insistere a chi giova, giova naturalmente alle università che per fare il test si paga e questo è uno sbaglio e nessuno ci ha messo mano nonostante la certezza che manchino i medici e che avremmo bisogno di molti più medici in tutti i settori. Avete visto quello che è successo a Vittoria l'altro ieri ma quello che succede regolarmente ogni giorno, ogni giorno ci sono sanitari che vengono aggrediti, c'era un servizio su Bordighera dove diceva che le persone che stavano male se ne andavano in Francia piuttosto che andare all'ospedale di Bordighera dove praticamente non c'è nessuna assistenza e c'è la gente buttata a terra, seduta a terra, diceva che non accadono solo al sud queste cose, no, accadono tutte le parti perché quando non ci sono i medici è chiaro che un solo medico, un ospedale dove ci sono 30, 40, 50 persone in sala d'attesa davanti al pronto soccorso, un solo medico non ce la potrà fare mai e come si fa nulla? Allora tra l'altro dobbiamo dire che a Ragusa non abbiamo più, non abbiamo il manager ancora perché è andato via a Liguo, mi pare sia andato a Biterbo o a Frosinone e non c'è ancora il manager, quindi questo è un fatto particolare perché non c'è un manager a Ragusa e questo permette che accadano delle cose un po' strane, si rinnovino contratti, anzi si fanno contratti di collaborazione che non si sa quello cosa fa, fa il giornalista, ci fanno contratti di collaborazione a persone che magari sono amici senza che ci sia un manager e queste cose non sono belle, non sono belle e poi ci sono dei settori di questo ospedale che sono veramente, veramente in difficoltà ma non tanto perché non ha il personale ma perché c'è una lotta interna in alcuni settori per chi deve fare il primario a chi tocca il posto di Ragusa, a chi tocca il posto di Modica e allora c'è un reparto dove addirittura ci sono dei macchinari all'avanguardia che costano 700-800 mila euro che sarebbero utilissimi per operare addirittura i pazienti quelli di classe A, cioè quelli che hanno il tumore e che dovrebbero essere operati al più presto però non si può fare perché manca il personale, perché non hanno l'infermiere, perché non hanno l'estesista e queste cose succedono a Ragusa, a Ragusa dove purtroppo non abbiamo un manager, allora io domani farò questa ricerca, andrò a capire perché non abbiamo un manager, che cosa accade e come si fanno a prendere certe decisioni dentro l'ASL di Ragusa e quindi anche dell'ospedale civile, che però è l'ospedale civile, l'ospedale Giovanni Paolo non si chiama l'ospedale civile ma è l'ospedale di Ragusa, allora la Lamentela continua negli ospedali di tutta la provincia, noi continuiamo a fare i test per prendere i nuovi medici, ma le prenderemo uno su quattro perché i test sono fatti in questo modo, però loro pagano, noi siamo senza medici, aspettiamo le elezioni e siamo il solito paese che non ha dove sbattere la testa, che però perde giornate intere in trasmissioni televisive, mi sono anche rotto le scatole, perché ogni sera c'è sempre la stessa cosa, Salvini che dice che è quello, la Meloni che vuole fare il leader, quello che verrà e poi ci sono i sondaggi, i sondaggi sono una cosa che veramente c'è il pericolo che siano un po' manomessi, dice ma perché dici questo? Beh guarda, oggi è venuto a Ragusa Cateno De Luca, che era stato anche ieri, ieri sera ha fatto il comizio, ora Cateno De Luca ha deciso che vuole visitare tutti i 370 comuni di questa Sicilia e girare 370 comuni vi assicuro che non è una cosa facile insomma, anche perché ci sono comuni in posizioni straordinarie e pensate che solo la provincia di Messina ha più di 120 comuni, noi ne abbiamo solo 11 oltre il capoluogo, insomma poca roba, ma poi ci sono sparsi nelle montagne, è veramente una cosa molto seria, allora Cateno vuole visitare tutti i comuni della Sicilia ed è l'unico che fa una campagna elettorale diversa, gli altri stanno a casa, da Schifani alla Chindici a Forza di Paola si muove un po' di più, ma gli altri sono un po' più statici, vanno nei grandi incontri, fanno le grandi manifestazioni, ma non vanno nelle piazze e qualcuno dice ma ancora vale il comizio? È utile il comizio in un mondo di post, in un mondo di internet, facebook, instagram e cose del genere? Allora io dico che quando si riesce a fare un comizio e a invitare la gente ad un certo orario e poi andarci più o meno in quell'orario è sempre una cosa positiva, alla gente piace vedere di persona un leader, riconoscerlo e poterci parlare, quindi questo è assolutamente interessante, è importante che si arrivi negli orari e è importante anche riuscire a capire che cosa dice il leader, in questo caso il candidato. Allora oggi pomeriggio ho avuto la possibilità di andare in un locale conosciuto a Ragusa, il Savini, lo possiamo dire perché tanto non ha bisogno di pubblicità e c'era una conferenza stampa, soprattutto un incontro con uno dei candidati perché come conferenza stampa eravamo un paio di giornalisti soltanto, forse anche perché i giornalisti sono un po' in contrasto con Cateno De Luca che però oggi vedrete anche chiesto scusa un po' per il suo modo di intervista. Allora abbiamo avuto occasione di parlarci sei minuti e vi posso dire che è un'intervista interessante perché senza uscire dalle righe Cateno De Luca è un personaggio che sa dire le cose. Vediamo.